E' stato un capodanno freddo, ma il cielo sereno ha comunque fatto sì che la gente si riversasse per strada per salutare l'arrivo del nuovo anno. E' stato così in tutta la Calabria, ma soprattutto a Catanzaro e a Cosenza. Nella città capoluogo oltre 3.000 persone hanno invaso il centro città. Diversi gruppi che hanno preso parte al concerto, iniziato intorno alle 11.30 e poi interrotto per la mezzanotte, ma l'esibizione principale è stata certamente quella dei Sud Sound System. Anche Cosenza ha salutato con un concerto l'arrivo del 2020, location diversa rispetto a quella degli ultimi anni. E' stato infatti piazza 15 marzo a ospitare l'evento a cui hanno preso parte migliaia di persone che hanno gremito lo spazio antistante il teatro Rendano. Il concerto del rapper Clementino e il DJ set fino all'alba hanno fatto il resto. Per me è un onore essere qui questa sera, Cosenza è una città che mi ha dato tanto. Pensa che in passato io ho lavorato a Paola, Fuscaldo Marina, facevo l'animatore turistico e quindi sono felice di essere qui per il Capodanno 2020.